La sua fotografia ha conquistato più volte critica e pubblico. Daniele Cipri ha inaugurato la Sagra del Cinema di Castiglion Fiorentino, la Kermess di Cinema Sotto le Stelle organizzata da Mente Glocale in collaborazione con il comune castiglionese. Nell'area della Torre del Cassero è stata proiettata, ad ingresso gratuito, la buca, pellicola di cui Cipri è regista. L'artista siciliano alla Mostra del Cinema di Venezia sarà ancora una volta in corsa, con Sangue del mio sangue, di Marco Bellocchio, un binomio, quello tra Bellocchio e Cipri, già ben collaudato. Lavorare con un maestro come Marco Bellocchio è sempre un onore per un regista giovane come me. Io inizio con la televisione, poi passo al cinema, quindi per me è stato magico. Ed è sempre magico lavorare con Marco proprio perché c'è questo confronto con il cinema del passato. Ed è una cosa che a me manca con tanti colleghi. Grande protagonista delle pellicole di Cipri e la Sicilia, ma mai pensato di girare in Toscana? Dovevo fare un film come direttore della fotografia in Toscana, però poi non è andata come previsto. Ma sicuramente non ci ho mai pensato. Chissà, può anche darsi che ci penserò. Io sono nei non luoghi, quindi qualsiasi posto mi piace, lo trasformo, però sicuramente valorizzo quello che c'è nei luoghi. La Toscana è meravigliosa, quindi chissà se un giorno non mi inventerò qualcosa qui. Ecco. Ecco io presento un po' domani.